Parlando di Lazzaro, il nuovo romanzo pubblicato ad aprile di quest'anno da Roberto Pazzi, che ringraziamo di aver accettato oggi il nostro invito e di essere venuto qui a trovarci nei nostri studi, affrontando il tema delicato e per qualche versi anche difficile, diciamo dei poteri misteriosi dell'arte e della letteratura, ha affrontato uno dei temi, diciamo, che viene sollevato, che è stato sollevato nelle presentazioni che Lazzaro, questo è il titolo del romanzo, ha sollevato diciamo nelle presentazioni che ci sono state frequenti in questi mesi ed è la capacità che ha questo romanzo di dare un brevido al lettore. E' il potere Roberto Pazzi che hanno in genere le grandi opere letterarie, che è un po' il brevido della scoperta, il brevido di, come dire, una storia che sembra farti vedere il mondo da un altro punto di vista, ti svella, diciamo, una realtà a cui non avevi mai pensato. E' questo il potere dell'arte? Sì, deve fare vedere l'altra faccia della luna l'arte sempre, se no è giornalismo. Il giornalismo è una nobilissima funzione di informazione, per carità, ma la nobilissima funzione, forse è più antica della letteratura, è quella di porci uno sguardo più improbabile sulla realtà, è più difficile da aprire, uno zoom più raro. La letteratura è come vivere al ventesimo piano di un grattacielo di 21-22 piani, poi c'è la cronaca che invece ti basta a quarto, quinto, sesto, settimo piano. Certo il brivido che per chi soffre di vertigini, il brivido del mio romanzo è presto detto, quando uno mette in scena l'unico uomo che è risorto, secondo la tradizione cristiana, o uno dei pochissimi, il diavolo che è una vecchia credenza demonica precedente al cristianesimo, anche perché c'era anche nella Bibbia il male, lo spirito del male, e lo spirito del male c'era anche nelle giorni precedenti, e Santa Teresa che è uno degli archetipi della santità femminile, bellissima, ma arsa da un amore per Dio che dà il brivido, evidentemente ha il coraggio di toccare degli argomenti che non sono proprio a pelo, sono contro pelo, ma che ci dormono dentro, perché noi siamo dei ex bambini, degli ex fanciulli invecchiati che vogliono essere incantati con le favole perché non ci racconta più nessuno, perché non ci raccontate ancora una favola? Sembra che dicano i lettori. Ma questo è proprio il compito che viene affidato, che noi, diciamo, lettori, affidiamo agli scrittori, poeti, ai romanzieri, ai narratori. Il brivido di cui parlavi tu. Il brivido, il brivido della scoperta, il brivido della sorpresa, è un'emozione, in un mondo, come dire, che sembra squadernarci, diciamo, davanti agli occhi tutti i giorni, tutti i momenti, la realtà, tutte le latitudini, in realtà noi ci annoiamo, insomma, perché comunque una stessa storia, una stessa vicenda resta davanti a noi per tanto tempo e sempre anche con le parole che si ripetono. Difficile trovare un punto di vista alternativo che ci sveli veramente o che ci dia una possibilità di comprensione. Esatto, e qui ho usato due punti di vista opposti, se posso, forse precedendo la tua domanda. Il punto di vista del tiranicida, cioè di colui che vuole risolvere in modo un po' individualista il male del suo paese, se nel suo paese è una dittatura, è un paese che è l'Italia, è un tempo che potrebbe essere il nostro, il modello purtroppo ce l'abbiamo nel passato, nel nostro DNA di questo dittatore, si chiama Mussolini e le riedizioni possibili aggiornate ai media, ai tempi, alla comunicazione televisiva, le abbiamo squadronate tutti i giorni guardando la televisione in tutti i paesi del mondo, pensiamo in Venezuela, pensiamo la Bielorussia, pensiamo Erdogan, la Turchia che abbiamo qua vicino, questa è la cosa che mi fa più paura. Io credo di aver avuto molto in mente come un paese di laica tradizione come quella della Turchia con la Kemal Ataturk sia sprofondato così rapidamente con un consenso popolare così grande in un nuovo califato che è una forma di dittatura sacrale con la religione come connettivo, sapete che è l'oppio dei popoli diceva Lenin o Marx, insomma uno dei due e quindi in qualche modo io ho messo in scena il tirannicida e il tiranno che è molto aggiornato sui nostri tempi. Certo e siamo già entrati sia con l'indicazione dei protagonisti che ha fatto come Roberto Pazzi adesso un po' con questa trama diciamo così di conflitto, di scontro fra tiranno, despota brutale, un despota brutale che usa tutti i mezzi diciamo così per schiacciare le coscienze e invece la spiante ti annicida, che si sente anche mosso da un anelito eroico. Da un anelito civile, eroico, però poi il tormento della coscienza gli fa sentire una vocina che è la vocina che da bambini ci insegnavano al catechismo, ovvero che è la vocina del diavolo, va bene, è la voce laica del non devi farla, quella cosa la fai, no? E allora ho messo in scena una vecchia conoscenza della letteratura, Faust di Goethe, il maestro Margherita di Bulgakov, il diavolo che è la coscienza che lo tormenta, lo tenta, lo consiglia, lo avvia e a un certo punto diventa quasi una forza realmente metamorfica perché lo trasformerà in un insetto che potrà andare a vedere di persona nelle stanze private del mostro del tiranno come è veramente il tiranno e qui c'è lo spiazzamento, il cambiamento del punto di vista perché il tiranno è talmente messo male, talmente fragile, debole, impaurito dalla morte, impaurito dalla vecchiaia, sedotto da persone che lo gestiscono che fa pietà per cui l'odio e il male si stempera nella fragilità e nella pietas e d'altra parte la conversione eroica c'è anche da quella nella tirannicida perché compare una figura femminile, lui che le donne non le aveva amate se non di superficie, ma non aveva mai detto mia moglie, non aveva mai avuto una… a un certo punto l'unica possibile diventa questa che torna al mondo dopo 500 anni perché ha avuto la grazia da Dio di salvarlo in anticipo dal suo proposito omicida, Teresa d'Avila, che era una donna bellissima quando era in gioventù, ma che aveva capito che sarebbe diventata una moglie con tanti figli che l'avrebbero fatta morire di parto come sua mamma e allora la sua intelligenza l'ha portata al convento dove era salva da questo destino. Ecco, diciamo che ci sono tutti gli ingredienti alla pazzi in questo romanzo, la visionarietà, la fantasia, la storia, la cronaca, perché messi insieme che cosa ti danno, come riesci diciamo così, noi entriamo in questa diciamo cassetta degli attrezzi che però solo tu sai usare in un certo modo e con quale diciamo così piacere o con quale, è difficile chiedere allo scrittore l'obiettivo, ma che cosa è che ti muove? Mi muove il bisogno di contribuire a cambiare la realtà che mi sta intorno anche con la fantasia e l'immaginazione. Quello che muoveva Lodovico Ariosto scrivendo all'Orlando Furioso nei suoi tempi, che non era quello di fuggire dalla realtà, ma di allargarla, perché se uno sta solo in quello che si vede, la miseria di quello che si vede, diceva Montale, lo scorno di chi crede che la realtà sia solo quello che si vede, questo è il verso di Montale, vive male, vive ma vive al 5%, noi dobbiamo avere un nobile scontento della realtà, dobbiamo essere infiammati da qualcosa che non ce la fa bastare, allora abbiamo la forza e di attraversarla, perché non è solo quella lì, e di allargarla, perché attraverso la parola, il segno, le opere d'arte, la musica, le canzoni, i concerti, penso anche a quel momento straordinario di Vasco Rossi, che in qualche modo obbedisce a un'oscura esigenza di allargare la realtà e di uscire attraverso un momento in cui tutti siano insieme intorno a una delle esturgenti cose della vita che è la musica, il canto. Ecco, ecco, i poeti sono figli di quella roba lì, io sono poeta e sono prestato alla narrativa, ho cercato di fare una cosa scandalosa, di riportare in scena santi, diavoli, demoni e sullo sfondo Dio, che però non si può scrivere. Lo scontento perenne è lo scrittore che attiva sempre la fantasia, però io adesso devo chiederti, perché credo che la curiosità di chi ci sta seguendo e di chi ti sta ascoltando sia ormai giunta, come dire, al limite. Lazzaro! Chi è? Chi è Lazzaro che dà questo personaggio che dà il titolo del romanzo? Lazzaro, nella finzione del romanzo, tu sai bene chi è e non possiamo svelarlo perché se no toglieremo il piacere di leggere fino in fondo il romanzo, perché la segreta identità di Lazzaro rivela una ragione umanissima per dire di no al ritorno, perché Lazzaro, la vita del libro è, per tutti è nell'immaginario colui che torna nel mio romanzo, è colui che non vuole tornare. Si rifiuta di risuscitare. Si rifiuta di risuscitare perché evidentemente sta bene dov'è, perché aspetta di là. Che ci sembra impossibile. Ci sembra impossibile, ma perché a Natale evidentemente emerge questo personaggio dalla fede che di là ci sia una realtà molto sostanziosa e che forse sia la vera realtà quella e che quindi per quale fatica dover ritornare in questa quando finalmente l'avevamo superata. Io l'avevo già messo in un mio romanzo, è nell'ombra del padre, che risuscitato è un povero diverso, disadattato, un povero infelice tutta la vita che non vede l'ora di ritornare alla seconda morte perché tutti lo guardano con disagio, tutti lo guardano, questo ne ha parlato anche Borgese in suo romanzo e poi c'è quel romanzo splendido di Pirandello, Lazzaro, che è un'opera teatrale, ma è un'altra cosa. Ecco, a proposito, noi non sveleremo naturalmente questo che è proprio un colpo di scena finale. Perché è una realtà d'amore che c'è dietro, c'è un romanzo d'amore qua dentro. E qui c'è anche, diciamo così, proprio l'impronta del thriller in questo romanzo. Eh sì, della suspense, della sorpresa. Esatto, per cui uno proprio lo legge col fiato sospeso, mentre uno dei protagonisti, Alberto, l'aspirante tiranicida, si interroga sul perché di questo sogno che gli dice che Lazzaro non vuole risuscitare, noi arriviamo col fiato sospeso. Però, a proposito del disagio di chi cambia la propria esistenza, di chi come Lazzaro si rifiuta di cambiarla, veniamo allora ai tempi nostri, visto che tu sei spesso chiamato, diciamo così, sui quotidiani, attraverso, diciamo, i tuoi articoli, attraverso le tue riflessioni, i tuoi fondi, ma anche in televisione, ad esprimerti, a riflettere su alcuni fenomeni, come dire, drammatici del nostro tempo, come è di chi affronta questi viaggi, ecco, il viaggio della speranza che diventa il viaggio della tragedia molto spesso. Io ho l'impressione che siano troppi ormai e non possiamo più contenerli, è una cosa molto brutta quella che sto dicendo, perché confina con quello che dicono persone di derivazione ideologica le più lontani dalla mia, e che sono i fascisti, ma l'irrealismo mi costringe a pensare che non ci stanno più dentro il nostro paese, che noi non possiamo più accoglierli e dobbiamo assolutamente inventare un qualcosa, ma anche presto, rapidamente, che non li fermi, che fermi queste migrazioni. Sarà non dare più i quattrini all'Europa della nostra quota, che se quei paesi a cui dovremmo dare queste quote si negano ad accoglierli, la prima cosa che dovremmo fare sarà quella lì, e sarà usare le nostre flotte per contenerli e riportarli indietro, non lo so in che modo, se sarà possibile. Noi sappiamo però, immaginiamo, ecco, qualcuno ce l'ha anche raccontato, qualcuno di loro, qualcuno che ha scritto, diciamo così, sull'ora dettatura, sappiamo da qual'inferno loro provengano, e dovremmo avere il coraggio di rimandarli nell'inferno. Che cosa diranno i posteri di noi, che non abbiamo fatto nulla, come dire, per modificare la loro condizione disperata? Certo, noi sappiamo che a fronte di tutto questo c'è una politica che è molto difesa da certi partiti, di riuscire ad andare nei paesi da dove vengono a togliere quell'inferno. Questo è già stato chiaro nei pronunciamenti dell'Europa, però teorici, e anche dei nostri ministri responsabili di politica, tutti affermano che la soluzione è andare a risolvere con investimenti economici, con imprenditorialità diffusa, aiutandoli a svilupparsi là dove sono. Tutti lo dicono, ma come si fa a farlo? Sono dichiarazioni che ormai sono sulla bocca di tutti, ma dal dire al fare qui è terribile, intanto la barca Italia affonda, non è più questione delle loro barche, cioè è una questione, io sono schizofrenico da questo lato, perché io penso che l'impero romano è caduto mentre resisteva i barbari e non sarà la stessa cosa, non si possono definire i barbari, queste persone, nulla si ripete mai nelle stesse forme, ma tutto si ripete. E noi periremo, perché questa parte del mondo che è stata soggiogata dal colonialismo nostro, e dalla nostra dominanza come dominio, ha diritto adesso a sormonta, pian piano arriverà. Ecco, ma Roberto, adesso proprio con molta tranquillità e quasi confidenzialmente, proviamo con il tuo aiuto a riflettere su alcuni elementi di contraddizione nel dibattito pubblico. Da una parte c'è chi dice, penso adesso al nostro arcivesco, il Monsignor Perrego, che è stato il direttore di un'associazione che ha nella sua missione quella dell'accoglienza dei diversi, di chi viene da lontano, e il quale dice che invece la ricca Europa avrebbe tutta la possibilità, come dire, di accoglierli, tranne che mettersi in guardia quando a creare questo afflusso quasi ingovernabile non sia la malavita, perché c'è anche questa dimensione, cioè che probabilmente c'è una criminalità organizzata che si allea, diciamo, fra il sud dell'Europa e i paesi africani, che portano di qua questi poveri disgraziati in cerca di speranza. Ecco, poi c'è chi dice l'Italia, l'Europa non riesce più a gestire questi arrivi. Ecco, come mettere, non dico d'accordo, ma insomma, come affrontare questi che sono due coni del dilemma che mette a dura prova le nostre coscienze? L'Europa è ricca e benestante, anche se viviamo una crisi... Ma l'egoismo, ma l'Europa, la ricchezza rende egoisti. Non è più facile che passi un cammello per la cruna di un ago che è un ricco nel Regno dei Cieli, l'ha detto una persona che probabilmente era Dio, se non altro perché ha detto una cosa così straordinariamente vera. E quindi la ricca Europa non li vorrà, li lasciano alle nazioni povere come la nostra, al povero Sud che è l'ombelico molle e debole dell'Europa. È chiaro che è un calcolo questo. E cosa possiamo fare noi? Subire? Io non credo, io non credo che potremmo farlo. Abbiamo anche i nostri vecchi, le nostre figlie, le nostre case, le nostre fatiche da difendere, il nostro sudato benessere. Benessere? Anche noi siamo figli della provvidenza, non solo loro. Non si può avere una vista solo monodica su questo problema. Difficile, è difficilissimo questa realtà. Infatti non lo so neanche se abbia una soluzione. Sono due visioni a confronto che non si trovano, non si incontrano. Mi sento di dire che sono troppi, non possiamo più accoglierli. Questo io lo sento, perché sento che sarà sempre peggio. Per quanto morale alta sia, allora dovremmo morire noi, dovremmo soccombere. Come è stato con l'impero romano? Probabilmente succederà questo. Sono gli sforzi dei troiani, i nostri, contro i greci, lo dice Cavallo. Ogni giorno un pochettino, però sappiamo che alla fine cadremo. Ci sono dei fenomeni che molto spesso arrivano a un punto tale per cui sembra quasi di doversi rassegnare all'ineluttabile, come in questo caso. Ed uno di questi, tanto per fare un elenco di fenomeni drammatici del nostro tempo, è quello che vede un acquirsi di forme di violenza nei confronti di categorie deboli, di fasce deboli della popolazione. Sono le donne, sono i minore, sono i bambini, sono i poveri, sono i vecchi. Ad un uomo di fantasia, di poesia, di grande spessore, di pensiero, la visione di questi fenomeni che un po' ci assillano quotidianamente, che noi cerchiamo comunque di dimenticare. Ma li abbiamo poi in giro per Ferrara. Che tipo di riflessione suscitano in te? È una riflessione di inedottabilità. Io sono assolutamente pessimista. Per il remo. Non c'è soluzione. Potremmo rallentare il fenomeno. Potremmo addolcirlo, frenarlo, un po' guidarlo, un po' ritardarlo, ma per un principio di vichiano, di corsi e ricorsi, di alterna onipotenza delle umane sorti, ora tocca a loro. Noi abbiamo già avuto, abbiamo già avuto il nostro grande momento. Lentamente emergerà un'altra parte. I disperati del mondo si approprieranno di quelle fonti di benessere e di ricchezza che erano esclusivo monopolio nostro. Non vedo altre possibilità. Ecco, quindi la violenza che si manifesta nelle nostre strade, di cui sono i nostri concittadini, insomma, responsabili, tu dici che è una manifestazione di una civiltà arrivata ad uno stadio di degrado non più modificabile? O c'è speranza? C'è speranza che la parte buona del mondo e anche la nostra società riesca a trovare una soluzione? Ma certo, pian piano riesca a trovare un modo di vivere qua che lentamente rimetta in moto il mondo nostro, cioè in condominio con loro. Probabilmente potrebbe anche essere una soluzione come questa. La conclusione. Al momento però, tu sai che l'allevatrice della storia è la violenza. Questo l'ha sempre detto Hegel, Marx. Quindi, al momento non sarà un parto indolore. Non c'è dubbio. Lo è già indolore. Lo è già dolorosissimo. Molto doloroso, ecco. Poi in prospettiva potrebbe darsi che, come dall'impero romano è venuto un miscuglio di razze che ha fatto i regni romano barbarici, penso ai franchi, no? E dopo può darsi che venga fuori una realtà di nuovo civile, civilissima. Ma quanto ci vorrà? Uno scrittore ha sempre anche, come dire, una dimensione pedagogica. D'altra parte poi la tua esperienza è quella di avere per tutta la vita, anche se è stato maestro. Ancora adesso. Anche adesso nella tua scuola di scrittura. Ecco, in questa scuola di scrittura, i giovani che cosa chiedono alla letteratura e alla tua parola? Ma guarda, ce n'è un piccolo numero bassissimo e nascosto che chiedeva un modo per far quattrini. C'è proprio un modo per vincere. Che ancora si possa credere che la letteratura sia un'arma per una rivincita sociale. Ma sono pochissimi e tacevano e fingevano. Ma allora qualcuno c'era. E poi c'era invece una parte che riteneva, che sentiva un grande piacere nel leggere e un piacere al quadrato nello scrivere anche loro un libro. Cioè l'idea di mettere un libro nella scansia dei loro libri accanto, col nome, era una cosa che li elettrizzava, perché ha un senso di eternità. Cioè questo è il segreto in realtà della creazione letteraria o artistica. Sai che stai facendo un gesto che supera i limiti biografici della tua esistenza e questa cosa, mentre stai vivendoti in ebria, ti dà una marcia in più. Nelle famiglie borghesi. Significa una forma di piacere. Sì, diciamo questo del passato, otto borghesi colte, c'era anche un po' questa tradizione di lasciare dei memoriali, dei resoconti. E questo poteva essere... Questa è la spia. È una spia, ecco, è anche uno sfogo. Ma, ecco, continuerai anche quest'anno? Al momento non ho il progetto di farlo, perché sono preso un po' più che altro da mie riscritte... Sto cercando di comporre tutta la mia opera in versi attraverso 50 anni di poesia e di pubblicarla in un unico volume. Quindi sto riguardando tutto quello che ho scritto. Sto un po' facendo una specie di pulizia generale degli archivi, insomma. Poi ho un nuovo romanzo ormai già pronto da Bonpiani, su Napoleone, insomma, poi devo girare all'estero per lanciare le traduzioni. Questo andrò in Corea in ottobre a lanciarlo. Poi andrò in dicembre a Mosca. Quindi ci sono tante cose. Ma io da un po' di tempo maturo un giorno per l'altro, le cose che devo fare. Non ho più la pianificazione. Anzi, mi viene il brivido dell'istantaneità. Forse perché di tempo davanti ne ho così poco. Ma è una questione naturale ed è una bellissima sensazione, quella di aver superato l'esame della vita. Io non sono uno di quelli che si lamenta di aver raggiunto i 70 anni. Anzi, dipende da come uno ci arriva. Io me li sento beatamente tutti addosso come un dono. Quindi scrivere, ma avere soprattutto successo come scrittore, può dare questa sorta, diciamo così, di felicità, di pacificazione con se stessa. Sì, sì, di pace con se stessa. L'ho detto anche di recente quella volta che abbiamo presentato. Ho fatto dei miei sogni, sogni per gli altri. Che è una bellissima. E questo è una cosa che dà un senso. E' un bel sprascito, ecco. Ti lascio i miei sogni. E' un buon lascito, sì. Perché nei miei sogni ti ci potrai accomodare come su una poltrona frau. Come io mi accomodo sui sogni di Ariosto o di Marquez o di Bulgakov. Perché comunque anche quando parlano come dire di drammi, di tragedie, come la grande tragedia greca, insomma, noi comunque troviamo, ecco, o l'elemento, la sorpresa, l'emozione, o comunque quest'amore per i personaggi, per i sogni di cui gli autori ci hanno nutrito. Certo, ci hanno nutrito, perché la nostra vita è fatta anche di questi sogni. Arricchiscono la realtà. D'altra parte, quando uno pensa alla sua vita verso la fine, la guarda indietro, sembra come un sogno ormai. L'ho sognata o l'ho vissuta? Ecco, l'ho scritto in una mia poesia, questo. E no, invece è la mia vita. Quindi è diventata leggera come una pomice. Capite la pomice che ha la forma di un volo pesante sasso, poi la prendete in mano e quasi quasi vola via. Questa è la vita, alla fine. Con questa bellissima immagine che è anche l'elogio della leggerezza, noi, prendendola un po' come un viatico anche per noi, ci concediamo da te, ti auguriamo una buona estate, sappiamo che fra poco ci sarà il tuo compleanno. Grazie, grazie. Credo che sia un momento importante e ti ringraziamo sempre per quello che ci hai dato e che ci darai. Grazie a voi.